Il meningioma, i meningiomi sono dei tumori benigni che nascono, crescono nella guaina che avvolge il cervello. Sono benigni ma in posizione estremamente delicata. Cosa può fare il neurochirurgo? Il professor Giulio Maira, neurochirurgo appunto all'Università Cattolica di Roma. Allora, questi meningiomi che sono frequenti, cosa sono? Sono dei tumori benigni, dei tumori che crescono molto lentamente, che crescono da queste guaine che avvolgono il cervello, quindi nella loro crescita progressivamente spingono il cervello, il quale forma una specie di nicchia, di culla che avvolge questo meningioma. Quando la crescita e le dimensioni di questo meningioma hanno superato dei limiti di sopportabilità da parte del cervello compaiono i sintomi indotti da questa compressione. I sintomi quali sono? I sintomi possono andare dalla semplice cefalea, perché ovviamente il meningioma comprimendo aumenta la pressione intracranica e quindi determina una cefalea. Oppure ha segni di disfunzione del tessuto cerebrale che viene compresso e quindi i sintomi possono cambiare a seconda della sede in cui il meningioma si sviluppa. Uno dei sintomi particolari che bisogna conoscere è la evidenza o la comparsa di una crisi epilettica. Sappiamo che l'epilessia è una malattia che spesso si manifesta soprattutto nei bambini. La comparsa di una crisi epilettica in una persona adulta che non ha mai avuto episodi simili in precedenza deve fare sospettare la presenza di un meningioma che sta comprimendo il suo cervello. Ecco, cosa fa il neurochirurgo fatta la diagnosi? Il meningioma ha una terapia che è semplicemente quella chirurgica, quindi il neurochirurgo deve rimuovere il meningioma. L'intervento presenta delle difficoltà diverse a seconda della sede in cui si trova il meningioma. Un meningioma della volta, in un punto qui o frontale, ovviamente se piccolo, se non è ancora diventato particolarmente grande, si rimuove facilmente. Un meningioma localizzato nella base cranica, quindi un meningioma che è completamente coperto dal cervello o vicino a nervi cranici importanti o arterie importanti, richiede interventi più complessi. Talvolta si usano degli approcci extra cranici, per esempio per via nasale, per via subtemporale, proprio per raggiungere il meningioma senza dover manipolare strutture cerebrali, quindi cercando di evitare al massimo i rischi sul cervello stesso. I risultati una volta fatto l'intervento? I risultati sono buoni. Se il meningioma si può rimuovere completamente e se il cervello non è ancora molto compresso e molto sofferente per la presenza del meningioma, i risultati sono eccellenti. Talvolta per rimuovere il meningioma bisogna purtroppo toccare strutture cerebrali importanti o strutture nervose importanti, questo può lasciare dei deficit, quindi per questo la diagnosi precoce è estremamente importante.